Evento dai molteplici contenuti politici, quello organizzato questa mattina a Isegna da Fratelli d'Italia, dove Michele Eorio e Filoteo Di Sandro hanno presentato il candidato sindaco Cosmo Tedeschi. Per Michele Eorio la candidatura tedeschi deve essere vista come il classico sasso nello stagno di una politica molisana sempre uguale a se stessa, la novità di un imprenditore di successo che ha sposato la causa di far ripartire la sua città avvalendosi di un'alleanza trasversale e civica, la stessa idea che Eorio vuole rilanciare a livello regionale in vista delle elezioni 2023. È stagnante la politica molisana, soprattutto in questi ultimi anni credo che sia una politica assente nei cuori e nella mente dei molisani. È lontana mille miglia, vive nei palazzi, distribuisce prebende, incarichi, ma non presenta nessun progetto che possa entusiasmare, che possa avere il significato di uno sguardo verso il futuro. Io credo che sia davvero un'esperienza unica. Quindi gente come Tedeschi che sanno misurarsi con i problemi e sanno anche dimostrare di aver fatto tanto nella vita, credo che siano utili e indispensabili. Per Tedeschi il primo impegno sarà quello della difesa dell'ospedale, messo a serio rischio dai tagli operati con il nuovo piano operativo sanitario e ha chiarito che far finta di non chiudere cardiologia, togliendo emodinamica, equivale a precludere la possibilità di salvare vite umane. Noi non possiamo permetterci questo, noi dobbiamo difendere l'ospedale è la prima cosa, quindi non è possibile chiudere ancora cardiologia e chiudere altri reparti. Noi dobbiamo rinvigorire l'ospedale, dobbiamo rinforzarlo e lo faremo insieme perché siamo convinti di vincere e quindi riporteremo l'ospedale a quello che era prima. Infine Filoteo Di Sandro, coordinatore regionale di Fratelli d'Italia, che ha attaccato pesantemente la tartaglione di Forza Italia accusandola di non aver mantenuto i patti su Isernia dove la candidatura sindaco del centrodestra toccava il partito di Giorgia Meloni. Per Filoteo Di Sandro le novità in Fratelli d'Italia ci saranno e avverranno con un chiarimento dopo le elezioni di Isernia. Un chiarimento all'interno del partito ci sarà perché la linea del partito è una, una sola e chi segue percorsi diversi è fuori il partito. Quindi il prossimo coordinamento regionale che ci sarà dopo le votazioni di Isernia esaminerà i comportamenti di queste persone e prenderà i dovuti provvedimenti.